Abbiamo posto un tema di rimente. Prima di procedere alla confarita degli aletti sarebbe stato giusto e corretto che tutto il Consiglio Comunale venisse a conoscenza della lettera, del documento inviato il primo giugno agli uffici comunali e successivamente agli organi competenti da parte dell'ex commissario affinché in maniera consapevole il Consiglio Comunale si sarebbe potuto esprimere. Il documento che abbiamo consegnato prima di procedere alla convalida non parlava di convalido meno, di occhiuto. Avevamo e abbiamo ancora oggi necessità, io credo tutti i Consigli Comunali, di minoranza e di maggioranza, la necessità di avere la certezza delle cose che si fanno nel Consiglio Comunale. Ecco perché abbiamo parlato e volevamo conoscere la relazione del commissario.